Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di Quenti Channel Oggi sono qui con questo nuovissimo video e quest'oggi come avrete letto dal titolo non andremo a parlare di Red Dead Redemption 2 Ma del prossimo Grand Theft Auto ovvero Grand Theft Auto 6 Per chi mi segue sul canale sa che amo portarvi tutte le notizie riguardo Rockstar Games, notizie ufficiali o comunque sia rumors E quindi in questo video quello che andrò a dire non è ufficiale ma si tratta comunque di alcune speculazioni, rumors Quindi mi raccomando ragazzi quello che sto per dirvi in questo video prendete tutto alla leggera Prendete tutto con le pinze perché comunque non sappiamo ancora nulla ma ripeto nulla di Grand Theft Auto 6 Anche se possiamo già immaginare che questo videogioco è già in produzione In quanto Rockstar Games appena pubblica un gioco è già alle prese con un altro Lo abbiamo visto per esempio con GTA 5 Infatti dopo l'uscita di GTA 4 Rockstar Games si mise subito al lavoro per GTA 5 O con lo stesso Red Dead Redemption in quanto dopo l'uscita del primo si mise già al lavoro per il secondo Bene ciò che ha suscitato diciamo maggiore curiosità da parte della community appassionata di Rockstar Games E soprattutto della saga di Grand Theft Auto è appunto la presenza di diversi annunci di lavoro da parte di Rockstar Games Rockstar Games infatti come potete notare ha diverse sedi e per ogni sede sta cercando nuovi programmatori che possano lavorare per lei Quindi sta trovando gente capace in grado di come la stessa Rockstar Games ha annunciato Sviluppare nuove tecnologie grafiche e migliorare quelle esistenti per raggiungere livelli visivi all'avanguardia E questi annunci di lavoro fanno effettivamente pensare che Rockstar Games stia lavorando ad un nuovo progetto In modo tale che quest'ultimo possa superare le qualità visive di qualunque altro progetto che noi conosciamo Tipo per esempio l'ultimo Red Dead Redemption 2 Sviluppare nuove tecnologie grafiche e migliorare quelle esistenti ci fa pensare subito che Rockstar Games stia creando Voglia creare qualcosa che superi la stessa grafica di Red Dead Redemption 2 E quindi già possiamo pensare al prossimo Grand Theft Auto ovvero Grand Theft Auto 6 Anche se comunque Rockstar Games ha anche altri progetti come per esempio continuare a sviluppare Red Dead Online Ricordo infatti che martedì prossimo ovvero il 26 febbraio uscirà un nuovo DLC Se volete saperne di più ho fatto un video al riguardo Quindi nuovi DLC e quindi cercare di sviluppare quanto più possibile Red Dead Online Inoltre ci continua ancora anche se in maniera meno frequente al rilasciare qualche piccolo contenuto su GTA Online e quant'altro Ma ovviamente ragazzi ormai la grafica di GTA Online e di Red Dead Online esiste La conosciamo quindi non ha senso fare annunci di lavoro per sviluppare Red Dead Online e quindi il multiplayer di Red Dead Redemption Anche perché Rockstar spiega in questi annunci che vuole sviluppare nuove tecnologie per raggiungere livelli visivi all'avanguardia Quindi ci fa pensare proprio a nuovi progetti oltre a quello di sviluppare il multiplayer di Red Dead Redemption 2 Quindi proprio per questo motivo questi annunci di lavoro fanno pensare ad un prossimo videogioco Ovviamente ragazzi quello più atteso è Grand Theft Auto 6 perché ormai ragazzi GTA 5 è vecchio Lo conosciamo benissimo Sta morendo anche pian piano GTA Online per via appunto di Red Dead Redemption O per altri fattori come per esempio il fatto che ormai dopo 5 anni ragazzi I giocatori si sono anche un po' stufati del fatto di andare sempre su GTA Online O anche magari per la carenza di DLC interessanti come quelli passati E quindi proprio per questo motivo sono in corso nuovi progetti di Rockstar Games Ovviamente quindi non sappiamo se si tratta effettivamente di GTA 6 Anche perché ci sono nuovi rumors che riguardano Bully 2 Quindi ci sono anche delle probabilità che possano uscire nuovi giochi Rockstar Come per esempio Bully 2 o GTA 6 Io anche se mi piacerebbe vedere un Bully 2 Spero che il prossimo videogioco che faccio uscire Rockstar Games sia proprio GTA 6 Perché ragazzi a mio parere GTA 6 farebbe molto più successo di Bully 2 Anche se Bully 2 è stato un gioco che ho apprezzato tantissimo Ma Grand Theft Auto ragazzi per me è Grand Theft Auto Quindi niente ragazzi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate Quindi lasciatemi una vostra opinione Cerchiamo di creare anche un dibattito nei commenti Vediamo un po' quanti sono gli interessati al prossimo capitolo di Grand Theft Auto E niente se volete sapere altri rumors riguardo GTA 6 Lo potete trovare anche nel mio canale Feci tanto tempo fa alcuni video E niente noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti